Un allarme vero e proprio è arrivato dal Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, che ha dato il termometro delle perdite subite dagli enti locali in Europa durante l'ultimo anno e mezzo di pandemia. Per l'Italia il deficit ammonta circa 23 miliardi di euro, ovvero il 9% delle entrate che solitamente arrivavano nelle casse di regioni e comuni. In termini assoluti l'Italia è la seconda più colpita dell'Unione, subito dopo la Germania, che con 112 miliardi di rosso di gran lunga è il paese in cui gli enti locali hanno subito di più. In totale, a livello europeo, il buco ammonta 180 miliardi di euro. L'esito negativo del dato dipende essenzialmente dalle maggiori spese dovute alla pandemia e dalle migliori entrate registrate. E tutto ciò, avvertito il Presidente del Comitato Apostolos Zizzi Costas, potrebbe portare a tagliare i servizi pubblici, a meno che non arrivino urgentemente più risorse dai fondi europei e nazionali per sostenere i progetti e i programmi locali. Per questo, ha commentato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, intervenuto a Bruxelles, fondamentale nei prossimi mesi saranno proprio le possibilità offerte da Recovery Plan. Abbiamo bisogno di un rapporto diretto con l'Europa, anche per quello che riguarda l'opportunità del Recovery Plan. E lo studio del barometro mette in evidenza, attraverso i sondaggi e la campagna di opinione che è stata fatta, che le regioni sono troppo tagliate fuori. Io lo avvertivo in Italia, ma ho potuto constatare che questo avviene un po' in tutti i paesi dell'Unione Europea. Io sono convinto che quindi occorre anche da un punto di vista delle norme, dei tavoli di lavoro, trovare un rapporto diretto fra le regioni e l'Europa, perché questo poi giova a avere progetti che possono essere direttamente investiti in modo da prevenire una disoccupazione e il disagio economico che il Covid ha generato.